ciao ragazzi mi perdonerete per questo video un po' veloce in realtà perché sto per prendere il treno sto per andare a milano dato che stasera sarò presente a san siro per la serata organizzata la samuel e to dove sarà presente anche paolo di bala dove sarà presente andrea pirlo tanti ex calciatori totti shevchenko insomma vediamo un po quello che accadrà sono veramente felice non vedo l'ora di essere là però oggi volevo in realtà portarvi questo secondo video di giornata su alcuni ragionamenti che sono riuscito a fare in queste ultime ore intanto stavo guardando l'ho postato anche su twitter quella che è stata la mia prediction no ai gol della juventus quindi alla posizione che avrebbe raggiunto la juventus tramite le prestazioni dei singoli quindi l'input questi sono i dati che mi aspetto l'output la juventus dovrebbe arrivare qua faccio anche un passo indietro in realtà in primis avevo immaginato questa classifica sul canale di davom insieme a lello avevamo fatto questo video ovviamente non si riferisce a quella che sarebbe stata poi la classifica finale quanto più ha un'idea di livello delle rose la juventus aveva ancora cristiano ronaldo e non ne ho mai fatto mistero secondo me la juventus con cristiano ronaldo in rosa sarebbe stata la miglior squadra della serie a una volta perso cristiano ronaldo invece l'avrei piazzata probabilmente al terzo posto tra milan e atalanta ecco diciamo così mai avrei immaginato una vittoria del milan e so che qualcuno potrebbe dirmi sì però vedi come è andato poi ronaldo in premier vedi che lo united comunque non è andato in champions nonostante ronaldo e quindi non è ronaldo quello che sposta è vero però ragazzi stiamo prendendo in considerazione il livello della serie a con il livello della premier penso che sia davvero logico invece fare una via di mezzo tra queste cose e quindi complimenti al milan complimenti al napoli che ha overperformato l'atalante invece ma un po deluso la juventus a seconda di quello che prendiamo come time stamp quindi pre ronaldo post ronaldo pre ronaldo mi avrebbe deluso e tanto questo posizionamento post ronaldo era quello che che mi immaginavo però avevo fatto addirittura un ulteriore passo in avanti no e quindi analizzare quelli che erano i gol fatti e i gol subiti dalla squadra nella totalità adesso vi lascio qua la tabella così potete divertirvi andare a cercare invece le statistiche attuali io avevo ipotizzato 79 gol fatti 34 gol subiti cosa fa invece la juve la juve segna 22 gol in meno quindi 57 gol in totale e ne subisce 3 in più quindi 37 ora io non mi aspettavo che l'eventus potesse sistemare la fase difensiva così in un lampo infatti 34 gol sono tanti soprattutto per una squadra allenata da massimiliano allegri che sappiamo avere una cura particolare sotto il punto di vista della fase di non possesso palla sulla fase di possesso quindi la nostra fase di transizione positiva dove cerchiamo di fare gol mancano 22 gol e non stiamo parlando di mancano 22 gol che sarebbero stati quelli di ronaldo mancano 22 gol sulla previsione che avevo fatto con ronaldo già andato via questo è molto grave poi non avevo considerato è vero l'infortunio di chiesa e le cessioni di meccenni e di culuzeschi sull'arte di bentancur più di culuzeschi che di bentancur però dall'altra parte sono entrati blauvici e zaccaria che dovrebbero aver dato anche quel qualcosa in più quindi attenzione che 22 gol non sono pochi aggiungo se prendiamo la classifica finale della serie a gol fatti nelle prime dieci classificati in serie a quindi la parte sinistra della classifica siamo la squadra peggiore in assoluto a parte il torino solo il torino è peggio di noi nei gol segnati e già questo è indice nella casella dei gol subiti invece siamo la peggiore delle prime quattro squadre classificate quindi le prime quattro che vanno in champion siamo la difesa peggiore ragazzi sono campanelli d'allarme importantissimi e infatti ieri abbiamo fatto un video no in cui cercavamo di ragionare su quello che è stato il percorso di questa stagione di massimiliano allegri e non solo prendiamo in considerazione tutte le altre le altre stagioni precedenti quindi da quando va via allegri a questa qua attenzione bisogna migliorare e ne parliamo nella parte finale di questo video prima di tutto però voglio togliermi un sassolino dalla scarpa perché continuo a leggere in queste ore che la juventus avrebbe vinto degli scudettini giocando praticamente da sola contro nessuno allora mi viene da dire secondo questa logica anche l'intero dell'anno scorso ha vinto uno scudettino giocando contro nessuno la stessa cosa il milan di ibra il primo milan di ibra ha vinto uno scudettino giocando contro nessuno questo stesso milan sarà giocata solo con l'inter perché io ricordo dei campionati in cui roma roma e napoli due squadre che non sono nemmeno abituate no a fare questa cosa qui quindi a lottare per il titolo sono andate intorno ai 90 punti almeno due o tre stagioni sui nove che abbiamo vinto almeno due o tre stagioni roma e napoli sono andati su 90 punti senza considerare che la roma è andata a giocarsi nella semifinale di champion sempre in quegli anni cosa che probabilmente non possiamo dire per queste squadre e ancora mi tocca leggere sì però la juve ha vinto sempre solo contro appunto roma e napoli quindi non squadre abituate ma quando sono tornate le milanesi beh primo scudetto che vinciamo del ciclo lo vinciamo appunto contro il milan di ibra e di allegri l'ultimo scudetto del ciclo lo vinciamo contro la prima inter di conte quindi insomma io capisco che nove anni siano un arco di tempo lungo elevato ma sminuire i successi del passato per valorizzare quelli di oggi di altre squadre non serve a niente perché lei ve ne ha vinti nove di fila volenti o nolenti prendono lasciare pensando che li ha vinti da sola pensando che li ha vinti non contro l'inter contro il milan abbiamo vinto contro tutti abbiamo vinto contro tutta la serie a siamo arrivati i primi con 19 squadre dietro sempre e non è che non c'era l'inter non c'era il milan e poi anche se l'inter e il milan in quegli anni sono stati più scarsi ma la colpa è della juventus o è dell'inter e del milan che in questi anni ha lavorato meglio e che quindi hanno preso il gap e che quindi ha raggiunto la juve no perché sembra quasi un demerito della juve no questo qua che l'inter e il milan non c'erano come se fosse colpa della juve no semmai è merito della juve colpa di milan e inter in quegli anni e oggi si è ribaltato il triangolo dai e cerchiamo di non ribaltare la verità nostro piacimento per esaltare o sminuire ieri un ragazzo mi ha fatto una domanda all'interno del video quello con la lavagna qualcuno mi ha detto come caressa se caressa lì semmo in fatto le lavagne va bene mi ha detto ma secondo te allegri in questo momento non è allontanabile per i soldi o c'è qualcos'altro dietro nel senso la sua domanda era dato che altri tre anni di contratto ha una cifra molto molto elevata è quella la cosa che non lo fa esonerare o c'è qualcos'altro per quanto mi riguarda come vi ho detto anche ieri tra l'altro vi invito andare a vedere quel video perché è molto dettagliato penso che sia venuto fuori un buon contenuto sono contento di quello che sono riuscito a portarvi pensare che questa singola stagione fallimentare sì è vero sia la causa di tutto insomma è sbagliato proprio per quello che vi facevo vedere ieri quando cancello a un certo punto di vista da un certo punto del video tutto quello che c'è sopra io non sono abituato a mettere la testa sotto la sabbia e accorgermi che quell'altro non c'è pensare che questa singola stagione sia il male assoluto e guardare il dito non la luna perché la luna ci dice che nelle ultime quattro stagioni quel gap di cui parlavamo pochi secondi fa nei confronti del napoli della roma delle milanesi che erano tanto lontane negli ultimi quattro anni la juventus se l'è divorato e adesso ci spazziamo la bocca e non se l'è divorato quest'anno qui la juventus se l'è divorato partendo dall'anno in cui compra cristiano ronaldo che vince allegri stesso il campionato a marzo a sarri che lo vince con un punto di distacco a pirlo che non lo vince ad allegri che ancora meno lo vince passiamo da vincere lo scudetto alla supercoppa solo lo scudetto a coppa italia supercoppa niente sono grafici in tendenza negativa da quattro anni a questa parte quindi pensare che l'unico errore sia soltanto questa stagione sempre secondo me è follia perché significa ignorare completamente i segnali di uso una parola forte declino della juventus la juventus è quattro anni che è in declino e questa è l'annata più bassa confermo seguendo questo ragionamento e seguendo questo trend di continuare a cambiare magari cambiamo ancora l'anno prossimo arriviamo addirittura fuori dalla champions se continuiamo a seguire questi segnali di declino quindi per me l'unico e badate bene due ce ne sono di motivazioni per andare avanti con allegri due le uniche due motivazioni la prima è dare una sterzata all'inversione di tendenza rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi quattro anni quindi cambiare sempre la seconda è perché voglio davvero dare un'ultima possibilità massimiliano allegri per quello che mi ha fatto vedere ma non sono mica contento di quello che ha fatto vedere massimiliano allegri quest'anno e ve l'ho dimostrato banalmente con i numeri della mia previsione e i numeri scandalosi della juve di quest'anno queste sono le uniche due motivazioni per quanto mi riguarda per andare avanti con massimiliano allegri per questo vi sto parlando di atto di fede che faccio nei confronti di un'altra stagione con questi presupposti perché negli ultimi quattro anni abbiamo sempre cambiato abbiamo sempre fatto peggio sempre e allora cerco di invertire la tendenza perché banalmente se per nove a per otto anni siamo andati bene confermando un progetto tecnico e negli ultimi quattro invece siamo andati sempre peggio cambiando sempre progetto tecnico mi viene a dire non è che a un certo punto stiamo pretendendo un po troppo la legge del tutto nulla e tutto subito integrando all'interno di un percorso di svecchiamento della rosa come vi ho dimostrato qualche giorno fa e riduzione dei costi a casa mia si dice voler l'uovo la gallina il culo caldo non so da voi come si dice da me questo perché è difficile avere tutto avere tutto è complicato avere tutto è subito ancora più complicato quindi queste secondo me sono le uniche due motivazioni per andare avanti con Massimiliano Allegri oltre alla solita motivazione del se una dirigenza che mi fa quattro anni di contratto a Massimiliano Allegri soltanto l'anno scorso dopo un anno cambia dopo altri tre anni che aveva cambiato e quindi diventa il quarto anno che mi cambia mi dà l'impressione di non sapere più che pesce andrà a pigliare e in quel caso va bene se ne andrà Massimiliano Allegri ma se ne vanno anche tutti quelli che hanno deciso di pagare per quattro anni Massimiliano Allegri scaricandolo l'anno dopo perché ci vuole coerenza e soprattutto ci vuole coraggio nell'accettare nello scommettere su quello che si è pensato l'anno scorso su un progetto quadriennale cioè qua stiamo parlando di milioni di euro in ballo ma non solo l'atto Allegri cioè intendiamoci quando facciamo questo ragionamento dobbiamo prendere in considerazione tutto e cioè gli investimenti che sono stati fatti per Allegri le cessioni che sono state fatte per Allegri mi viene in mente banalmente il nome principale che si può fare è Kulusevski anche ieri autore di un'ottima prova col Tottenham nel 5 a 0 finale con cui Conte è andato in Champions ai danni dell'Arsenal l'ultima giornata di Premier League quella è stata una cessione perché l'allenatore non lo vedeva e io sono d'accordo a fare queste cose ma sono d'accordo a farle soltanto se chi comanda la Juventus chi decide la Juventus è sicuro di andare avanti con quella persona con cui è iniziato il progetto perché se no mi cade tutto e allora se no mi cadono anche le idee di andare a trattare Pogba e Di Maria perché magari cambiamo allenatore ne arriva uno che ti dice guarda io con certi profili preferisco non lavorare preferirei lavorare appunto con un Kulusevski e quindi cosa fai ora che sei così avanti con Di Maria Pogba non tratti più Di Maria Pogba perché vuoi andare a richiedere Kulusevski che tuo ti prego a Tottenham non riscattarlo cioè capite bene che si sta andando in una direzione di follia ragionando su questi binari quindi se c'è una dirigenza che ha potere decisionale che ha deciso appunto su Massimiliano Allegri per quattro anni e l'anno dopo me lo toglie io non credo più in niente non posso più dare fiducia sarebbero dei livelli di fiducia esauriti completamente quindi che facciano quello che vogliono ma io non riuscirei più a fidarmi poi di persone che per quattro anni di fila mi vanno a cambiare gli allenatori spendendo soldi così come fossero gole ad or concludo con la critica più grande che voglio rivolgere nei confronti di Massimiliano Allegri perché l'arrivo di Massimiliano Allegri perché io continuo a leggere qualcuno che mi dice Allegri dovrebbe andare in campo e preparare gli schemi e fare gioco e non abbiamo un'identità ma non è quello che chiedo a Massimiliano Allegri eh attenzione prepariamo cioè cerchiamo di far girare le rotelline quando ragioniamo su queste cose lo abbiamo avuto sei anni Allegri con cinque ci abbiamo vinto uno no ma nei cinque che abbiamo vinto ma queste cose ma quando mai le avete viste cioè Allegri non le prepara così le partite le stagioni non lo fa e questo può piacere o non piacere è un altro discorso l'importante è che poi il metodo l'approccio al lavoro di Allegri si traduca in risultati questo è l'importante quando hai in panchina Massimiliano Allegri devi sempre ragionare a seconda della natura che hai in panchina quando hai Massimiliano Allegri devi ragionare in questa maniera strettamente cinica ok è l'unica cosa una sola io che devo dare a Massimiliano Allegri una sola ed è l'unica cosa che non ho visto in questa stagione anzi ho visto l'esatto opposto ed è secondo me la più grande delusione nei confronti di Massimiliano Allegri ed era la mia più grande paura che dissi anche in un video con Michael Reghini proprio qua sul canale disse la mia paura è che Allegri voglia dimostrare che può vincere anche secondo questa nuova visione di calcio perché ribadiamolo bene questo è un nuovo Allegri è un Allegri diverso quello di quest'anno rispetto a quello che abbiamo visto per un motivo l'Allegri quest'anno conclude dicendo che abbiamo finito dignitosamente la stagione che abbiamo raggiunto gli obiettivi che non è perché ci chiamiamo Juventus che dobbiamo sempre vincere ma di cosa stiamo parlando ma non è vero ma non prendiamoci in giro che poi lui ne debba dire per difendere il suo operato è un conto ma se Allegri sta pensando queste cose nella realtà è gravissimo l'unica cosa che pretendevo da Massimiliano Allegri è che non ho rivisto era la mentalità vincente ridare la mentalità vincente a questa squadra ma quelli che mi dicono no Allegri è un perdente no Allegri non darà mai la mentalità vincente ma ragazzi ma ma forse noi ci siamo dimenticati com'è andata la storia nella Juventus negli ultimi dieci anni Allegri queste cose te le ha date e quelli che continuano a dirmi no però ha vinto sulla base del lavoro di Conte sicuramente si è trovato in mano una squadra ben avviata avviatissima ma lo stesso Simone Inzaghi quest'anno si è trovato in mano una squadra avviatissima con il lavoro di Conte pure lo scudetto l'ha perso e non venitemi a dire per cortesia eh sì però ha vinto Coppa Italia e Supercoppa che io mi ricordo l'aria che tirava l'anno scorso con una squadra che ha vinto Supercoppa e Coppa Italia e me la ricordo l'aria perché adesso sono tutti fenomeni a dire eh però Pirlo può venire l'anno scorso e l'anno scorso quando dicevo certe cose su Pirlo invece me le ricordo le quintalate di cacca che mi arrivavano addosso eh me le ricordo me le ricordo davvero quindi bisogna sempre cercare di essere seguire una linea perché poi è sempre più facile dopo eh dopo è sempre più facile sempre più facile prima e dopo è più facile quindi Allegri deve ridare la mentalità vincente a questa squadra io non posso vedere ma lo dico da dal giorno zero di quest'anno sperando che Allegri potesse evolversi a un certo punto sotto questo punto di vista non possiamo permetterci di difendere un gol di vantaggio ma dove siamo un anno intero un anno intero a difendere il gol di vantaggio se hai finito a fare 57 gol in serie A e a prenderne 37 arrivare quarto e a vincere zero titoli questo non può più andare questo non può più esserci non può più esistere non voglio più vedere la gestione del gol di vantaggio di un gol di vantaggio a meno che non sia a 12 secondi dalla fine dove devi fare il possesso ma il possesso palla lo puoi anche fare ma fammelo in vantaggio di due gol di tre gol perché poi parliamo diciamo eh beh non abbiamo gestito l'imprevisto è certo che non abbiamo gestito l'imprevisto siamo rimasti fossilizzati sul fatto di essere solo un gol di vantaggio questo non può essere questa è l'unica cosa che non può essere e non venitemi a dire che Massimiliano Allegri è sempre stato così perché non è vero poi se vogliamo aprire una parentesi legata al fatto che Massimiliano Allegri ha sempre avuto delle squadre più forti rispetto ai competitor vabbè qua alzo le mani ragazzi ma ancora una volta lo ripeto non è un demerito della Juventus è un merito della Juventus ed è un merito anche di Allegri secondo me che gli va riconosciuto in Europa il primo ciclo di Allegri ragazzi non lo tocco per me rimane lì sacro scolpito nella pietra risultati incredibili questo secondo ciclo di Allegri è iniziato malissimo credo che continuerà ma sarà l'ultima possibilità che verrà data ad Allegri io davvero mi auguro che Allegri abbia ragionato così quest'anno perché non soddisfatto della rosa disposizione e quindi voleva semplicemente cercare di limitare i danni ha accettato addirittura un anno del genere che per me è già follia non credo che possa corrispondere a realtà quello che vi ho appena detto ma mi viene a dire che è l'unica spiegazione logica e razionale un altro anno di questo tipo e per questo tipo non intendo solo dei risultati proprio di quello che si vede in campo a livello di mentalità l'altra sera abbiamo difeso l'1-0 della Fiorentina cioè l'altra sera stavamo perdendo e ci è andato bene perdere e ne avevamo preso un altro bisogna capirle le squadre Allegri penso che dopo un anno possa aver capito che questa non è la sua vecchia Juve di una volta che in un modo o nell'altro il gol te lo fa perché ci sono i campioni e dietro non lo prendi perché puoi prendere anche Pogba e Di Maria magari un gol lo fai in un modo o nell'altro ma dietro continui a prenderli ribadisco 37 gol subiti in Serie A la peggior rifesa delle prime quattro peggio di Inter Milan e Napoli sto parlando peggio di Real Madrid Manchester City Liverpool no cioè stiamo parlando di squadre bene o male normali quindi queste sono le cose che per forza non possono più corrispondere a realtà l'anno prossimo in caso di conferma di Massimiliano Allegri fatemi sapere un po' che cosa ne pensate ragazzi ci vediamo a Milano per chi c'è vi ricordo che è la prima volta che sei arrivato alla Juventus si è girato una partita di Champions c'era la gente era bianca con questo pallone non le strisce nere questo